Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui presso il centro sportivo di Cantu Asnago e oggi vi voglio sfidare in una sfida non calisthenics ma ninja warrior. Mezzo calisthenics, mezzo... Sì, sì. Una specie di arrampicata, dovremmo arrampicarci come delle scimmiette sulle sbarre. Interessante. Dai, dai. Voi siete carichi ragazzi? Io sono carico. Voglio vincere. Perfetto, allora possiamo iniziare. Passi sopra e poi scendi da lì. Ok. Dai in posizione, quando vuoi. 3, 2, 1, let's go! Un bel muscle up. E da lì passa sotto già questa sbarra. Vai, veloce, 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 veloce. Infilati, bravo. Agganciati con le gambe. Anche qua le gambe vanno usate. Eh, sembra facile. No, non sembra neanche facile. Poi per lui che è grosso anche. Dai, dai, dai che ci passi. Qua non ci si può incastrare, non siamo così grossi. Da lì entri sotto di nuovo, dai. Dai, dai, dai. Entri sotto. Dai, 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 dai. Aggrappati. Siamo a 36 secondi, dai. Aggrappati. Entra sopra. Dai, 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 bravissimo. Tanta roba. Dai, 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 dai. Come ti senti, come ti senti? Malissimo. Fa male tutto. È la mia creazione. Ci sta come circuito. Eh, fa male. Stavo dormendo, poi all'improvviso ho detto, dai, perché no questo circuito qua. Dai, dai, arrampicati su. Dai, sopra, sopra. Dai che ci stai. E da lì. Ci sei, ci sei. Dai che ci sei quasi. Passa sotto. Dai, 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 dai. Con calma. Occhio ai gomiti. Eh, lo so, è tosta, è tosta. Passa bene. Dai, striscia. Dai. In un minuto e venti. Un minuto e venti. Dai, bravo, Alex. Questo è dolore fisico, oltre che muscolo, fisico della schiena, proprio. Eh, sì. Bisogna essere anche snodati per farlo. Quando vuoi, tira, si carica. Una, 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 una. Sì. Vai. Tre, due, uno, let's go. Massa l'up e da lì passa veloce. Lui vince facile. Sì, perché è bello secco, no? No, scherzo. Ok, ok, ok. Dai, 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 dai. Ma come sta l'easy? Faccio l'easy. Io con il mio dorsalone mi incastrerò sicuramente. Eh, il problema di base è che il volume è fisico, capito? Cioè, il volume che entra nella parte... Da un lato mi prendo bene perché mi sentirei grosso. Vai, tia, vai, tia. Eh, è già un po' fanca. Cavolo, è bello. Bello, ci siamo già sui 30, quasi 40 secondi. Vai, 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 aumenta la velocità. Dai, vai, 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 vai. Sta anche usando una tecnica diversa rispetto a Rale. Sì, c'era. Aveva già le gambe attaccate lì. Ok. E da lì passa sotto. Vai, vai, ora, vai, 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 su, su, su. Dai, dai. Sì, sì. Passa, passa. E da lì scendi. 52 secondi. Mamma mia. La schiena rossa, eh? No, è normale. È vasto. Fai una prova. Eh. Ok. Eh, dai, è bello. Va su, buon'arma adesso. 3, 2, 1. Ma solo up. Vai su. Easy. Va da sola, vai. Tutto da sola. Ok, andiamo a un po' cosa vuoi fare. Vai, infila, infila. Vai, su, 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 su. Stresciamo, facciamo le scimiette, dai. Il tempo. Arrampicchiamoci. Facile, facile. Ah, sta usando la tecnica di Mattia. No, no, questa è che è meglio. Guarda che, doppia gamba. Eh, ma io così non ci posso, mi sa. Eh, questo faccio di passare. Cioè, un dorso del genere non può stare in... È vero. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ragazzi ha vinto. Wait, 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 wait. No, 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 no. Ma quanto, ma quanto è? Battuti da una ragazza. Oh! No, non ci credo. 36 secondi. 36 secondi. Ma no, dai. Dai, dai, mattino, vai, vai. Dai, però c'è da dire che qua c'è una massa muscolare non indifferente, io invece sì. Grazie, grazie. Eh, dai. Almeno posso aggrapparmi su un qualcosa. Vai, pronto? Sì. Let's go. Vai, vai, masco la, ci siamo. E lì, ok. Gli ho un po' che tecnica utilizzerà. Dai, dai, dai. Prova, prova la tecnica di Miriam. No. Non è fattibile. È più facile il malteso. Il passo del malteso sì. Oh, wait, wait, però non è male, non è male. Cioè, non devi neanche piegarci così. Non è male. Sto andando. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, ok. Questo volume lo tradirà. Questo volume lo tradirà. Vediamo un po', vediamo un po'. Che male. Dai, ci sei, eh? Vai, 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 spingi, spingi. Ci sei? Spingi, spingi, spingi. Fino alla fine. Questa sofferenza vera. È sofferenza vera, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 è soff. 42. Oh, dai. Pensavo peggio, eh. Sei stato velocissimo. Pensavo peggio. Eh? Dai. Soddisfatto? Sì, sì. Io di più. Umile, è grande, ci sta. Così ti voglio, bella rogata. Ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, un bel like, un bel commento. iscrivetevi al mio canale e troverete anche i canali di tutti loro sotto il video link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi